Una marea senza fine, una tragedia che non risparmia. 1.375 i migranti giunti ieri alle 17.30 al porto di Crotone. Il primo a scendere dall'enorme nave della Marina Militare San Giusto è stato il corpicino di un feto che dalle prime ricostruzioni sarebbe stato abortito durante la navigazione. Sul piccolo corpo Don Leonardo Scordio di Isola Caporizzuto, presente a Crotone, ha improvvisato una preghiera tra tutti i presenti e successivamente il feto è stato consegnato agli operatori di un'agenzia di pompe funebri. Lo sbarco di immigrati più imponente di questa estate, registrato fino ad oggi nella città pitagorica, dimostra ancora una volta come dalla Marina Militare alle Capitanerie, passando per le Forze dell'Ordine e le Associazioni di Volontariato, la città e l'intera nazione sappiano esprimere le loro migliori eccellenze in fatto di organizzazione e soprattutto di accoglienza. L'allarme era scattato già nel pomeriggio e la macchina dei soccorsi si era subito messa in moto per far fronte alla marea umana che, soccorsa nelle acque del Mediterraneo, è stata prontamente raccolta dalle unità impegnate nell'operazione Mare Nostrum. Tra loro quasi 200 donne, tra cui alcune incinte trasportate immediatamente in ospedale e 150 minorenni. Dopo lo sbarco sulla banchina crotonese, i primi controlli medici che hanno riscontrato 39 casi di scabbia. Una trentina e i pullman schierati ad attendere i migranti. Cento di loro saranno accompagnati verso la casa Sant'Anna d'Isola Caporizzuto. Gli altri, come disposto dal Ministero, saranno trasferiti invece nei centri dislocati in tutta Italia. Lunga e meticolose le attività di prima assistenza, con gli operatori che sono stati impegnati fino a tardanotte.